Partita difficile, un inizio su un campo tosto, una squadra ben allenata e preparata sia atleticamente che tecnicamente. Sinceramente mi aspettavo, sono contento per come si sono comportati i ragazzi, l'inizio è stato devastante da parte nostra. Reggevamo poi i ritmi per quattro tempi, siamo una squadra imbattibile, però siamo una squadra con molte lacune, soprattutto sotto, anche se devo notare, è veramente un'incomiabile, speciale, è la prima volta che parte in un quintetto in una C-Silver, tanti ragazzi sono entrati in campo, siamo ancora una squadra che dobbiamo lavorare tanto, però l'inizio non è male, io mi aspettavo di peggio qui sul Pallalumac contro la Valgalmi. Dobbiamo lavorare, abbiamo un inizio difficile, domenica incontreremo la Vista, un'altra squadra buona e rodata. Noi penso che tra un mese diremo la nostra, faremo un campionato discreto anche perché tra Icosta, Bozza, Scappidi, Pugliandro, oggi l'unica nota negativa che mi dispiace tantissimo è l'infortunio, spero di Dario Condemi, spero al più presto che non sia nulla di grave. uno per le qualità tecniche, due per le dotte umane del ragazzo, speriamo bene e speriamo di fare un bel campionato con la loro gioia.